Uno spettacolo incredibile questa mattina a lungomare liberato. Alle 10, mentre migliaia di persone cominciavano ad arrivare in bicicletta con i pattini, a piedi, a godersi questa ennesima ripetizione di questa mia bella iniziativa, il lumolare era emerso nella nebbia. Per evaporazione sembrava di stare a Milano. Adesso la nebbia comincia a diladarsi, c'è una giornata fantastica, una temperatura bellissima, migliaia di persone che si godono questa esperienza che ho voluto fortemente ripetere a distanza di 15 giorni, con questo tempo meraviglioso, offrire ai catanesi la possibilità di respirare un po' di aria pulita, di incontrarsi, di salutarsi, di ascoltare il rumore del silenzio e il rumore della gioia di vivere. Questa è la città che amo. Stiamo lavorando a lungomare per realizzare la pista ciclabile, un lavoro impegnativo, serio, in mezzo alle solite e consuete polemiche di chi non vuole fare le cose, ma noi le faremo con passione, con entusiasmo e con determinazione. Buona domenica.